Vedere l'interlocutore, vedere il viso crea un rapporto di sicurezza, di fiducia nell'operato del servizio stesso, nonché ovviamente giova molto ai malati, in questo caso i malati nostri che sono svegli, ventilati con casco o con altri sistemi. Sarà indubbiamente questo il dono di Natale più gradito, poterà rivedere i propri cari. Anche la bolla Covid dell'ospedale San Donato di Arezzo infatti apre alle visite dei parenti, il tutto ovviamente seguendo un rigido protocollo. Sono stati infatti creati percorsi e regole per l'accesso dei visitatori nei vari setting Covid ospedalieri. Un visitatore per malato che sarà totalmente assistito in tutto il percorso, dall'ingresso all'uscita da noi stessi. Quindi gli aiuteremo e gli insegneremo la vestizione di tutti i DPI necessari. Sarà accompagnato al letto del congiunto, sarà sempre presente l'infermiere tutor per le notizie assistenziali e sarà presente anche in collaborazione con noi, nata da tempo, il servizio della psicologia clinica per dare il supporto emotivo necessario. La durata della presenza in reparto sarà di 30 minuti, di cui 15 per l'incontro con il parente ed altrettanti per il colloquio con i sanitari e per la vestizione e svestizione. È un aspetto sicuramente importante che fa parte anche della cura sia scientifica che umana di queste persone. Quindi sicuramente può avere certamente un aspetto importante anche dal punto di vista dello stimolo, diciamo che può avere il paziente stesso, sappiamo che sono persone che rimangono a lungo ricoverate all'interno dell'area Covid. Quindi sicuramente è un aspetto integrativo importante. Il San Donato ovviamente si aprirà anche alle famiglie che hanno i propri cari in reparti non Covid. Ci sarà sempre comunque un'autorizzazione preventiva da parte del responsabile del reparto, che prenderà contatti con il familiare, che permetterà al familiare sempre in fasce orarie definite di entrare in reparto. Il fatto che le fasce orarie e i giorni vengano definiti preventivamente è chiaro che è una sicurezza per impedire il sovraffollamento che ovviamente non ci possiamo assolutamente permettere.